Si comincia da dove si è finito un nuovo derby per l'Avelino di Piero Braia che domani pomeriggio affronterà la Turris. Sono 27 i punti ottenuti fin qui dalla compagine coronina, ma quello che balza all'occhio è il fatto che il rendimento risulti migliore fuori casa dove ne sono stati conquistati ben 14, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi ed una sconfitta. Nella speciale classifica che tiene conto solo delle trasferte della Turris sarebbe addirittura Quart a pari punti con l'Avelino. Lontano dall'Igori è superiore anche il numero di gol segnati, 14 mentre quelli casalinghi sono 9. In tal senso è emblematico il rendimento di Pandolfi, attuale capo canoniere della Turris insieme a Giannone. Infatti dalle 6 reti segnate all'attivo per l'ex Virtus Centella, una sola è stata segnata in casa. Equa la distribuzione delle reti di Giannone, 3 in casa e 3 fuori casa. In ottica formazione i Coralini scenderanno in campo con il consegno 3-5-2 speculare ai lupi di Braia. Davanti ad Abbagnale agiranno Dinunzio, Renone e Lorenzini. Dada alta ed esempio avranno il compito di dare velocità alla manovra sulle fasce con al centro Signorelli, Franco e Tascone. Le chiavi dell'attacco per scardinare la retroguardia bianco-verde saranno affidate tutte nelle mani di Giannone Elemento, fin qui che si è dimostrato l'arma in più, ma soprattutto di Pandolfi, autentica rivelazione che fa gola a diversi club di Slega Pro. Grazie a tutti.